Bomba a Milano! Abbiamo una notizia entusiasmante per tutti voi appassionati tifosi del Milan. Prima di tuffarci in questa storia, ricordate che il vostro sostegno è fondamentale per il Milan. Quindi assicuratevi di mettere i mi piace al video e di condividere il nostro canale per continuare a crescere insieme. Ora passiamo alle notizie. Il Barcellona sta pensando di fare a meno di Ansu Fati e il Milan sembra essere uno dei club interessati a fare. Un'offerta nel 2024. Il National riporta che l'allenatore del Barca, Xavi, non ha molta fiducia nelle capacità di Fati e quindi è stata presa la decisione di prestarlo al Brighton per la stagione in corso, dove ora spera di ritrovare la forma migliore e dimostrare perché era ed è un talento così apprezzato. Ha segnato un solo gol sotto la guida di Roberto De Zerbi e l'attaccante ventenne e vuole fugare i dubbi di poter. Diventare uno dei leader del progetto del Barcellona. L'ingaggio di Joao Felix, l'emergere di Lamine Yamale e l'arrivo di Vitor Roch lo mettono in dubbio. Il Barca considera Ansu Fati vendibile e ci sono tre club interessati a lui, il primo dei quali è il Siviglia. Il loro manager, Victor Horta, ritiene che il giocatore valga la pena di essere acquistato e il club lo insegue da tempo. Oltre agli andalusi, anche il Milan e il West Ham United stanno tenendo d'occhio Ansu e stanno valutando di fare un'offerta nel 2024 per acquisire i suoi servizi a titolo definitivo, ma il prezzo richiesto è di 30 a 40 milioni di euro. Ora, cari tifosi, secondo voi quale sarebbe un buon acquisto per la prossima stagione? Lasciate i vostri commenti qui sotto e condividete le vostre opinioni. Continuate a seguire le notizie sul nostro amato Milan qui sul canale. Non dimenticate di mettere i mi piace, di condividere le vostre aspettative e di seguire il nostro canale per non perdere nessun aggiornamento.